Difonso, Beretta, Scuderi, buon accorso Martone per la Luis Roma, dall'altra parte Serino, Ricciotti, Provenzani, Giammo e Longobardi pronti per palla due. Il signor praticò a lanciare il pallone tra Beretta e Longobardi. Gara che inizia in questo momento, possesso però che va a Scauri. Va Ricciotti a giocarsi il pallone. Ovviamente il cambio d'orario ci porta in un palaborrelli alla luce del sole, potremmo dire così. Mentre c'è stato questo errore, allora Difonso può bastire per i suoi, fa viaggiare il numero 13. Buon accorso, Difonso cerca la velocità dietro per Martone. Va a venire avanti Scuderi, va il numero 10 degli universitari sotto per Martone. Martone è arrivato da Ortona quest'anno a rinforzare una squadra che ha una grossa prerogativa, quella di tutti i giocatori giovani e che fanno parte del camp universitario della Guido Carli di Roma, della famosa LUIS Università. I giocatori in campo sono la netta dimostrazione di come si possa fare sport e perché no, seguire l'università, anche con grandi risultati perché se sono a questo livello nel campionale Serie B, qualificati nei play-off, già con largo anticipo, una buona preparazione deve esserci di fondo. Ricordo di un'intervista qualche anno fa, Doccia Paccaria mi disse è difficile allenare una squadra universitaria perché quando sei sotto esame i giocatori non rendono, i giocatori non possono seguirti. Quest'anno o ne hanno fatti pochi di esame oppure questo gap è stato colmato. Difonso la gioca per Beretta, le mesi con Longobardi. Beretta è cresciuto in questa LUIS Roma, mette dentro i suoi primi due punti. Può ripartire Scauri con Ricciotti. Va a Longobardi la penetrazione, ne esce un gancio che però non permette di arrivare a canestro. Già 4-2 falli, c'è il fallo di Beretta. Si alza la paletta numero uno ma è il secondo fallo con un attimo di squarra per la LUIS. Palazzetto non tanto gremito. Intanto il primo tiro di Longobardi toglie lo zero dalla casella dei punti realizzati da Scauri. Secondo tiro di Longobardi, fa due su due. Può ripartire allora Beretta per Difonso. Ancora per Beretta. Scuderi, ottima la sua prova lo scorzano sul campo di Scauri. Ogni partire Serino dopo questo rimbalzo vinto. Diciotti. Passaggio su Longobardi. Quarta palla, poi si propone Giammovi, finisce a giocare la Longobardi. Va al tiro. Ferro sotto, non c'è nessuno a prendersi rimbalzo. Allora riparte la squadra in maglia blu. Scuderi, larga per la giocata di Buonaccorso. Difonso prova a scappare via Ricciotti. Però Difonso cerca il gancio, accettare ancora Buonaccorso. Generazione di Buonaccorso, si appoggia bene. Di parte allora Ricciotti, uno Scauri-Guardingo. Uno Scauri che deve cercare punti, però. L'ultima partita qui tra le muramiche di Scauri. Fu quella contro Cassino. Intanto va fuori questo pallone. Fu quella contro Cassino. E arrivò una bella prova, anche se con una sconfitta. Ma comunque una bella prova per i Delfini. Intanto il pallone è rimesso in gioco. Poi il dai e vai con Difonso che può salire al cospetto di Ricciotti. La penetrazione. Arrivano altri due punti. Targati Scuderi. Di parte Ricciotti. Non si è visto ancora Provenzani. Poco servito. Lo serve in questo momento Ricciotti. Già mo' arriva a Serena a portare il blocco. Riesce. Tutto chiuso però. Si riparte il tiro da Longobardi. Tiro da casa. Il ferro. Lo Scauri sempre tagliato fuori sotto. Infatti subito Sabatino va a chiamare il time out. Qui Longobardi legge bene. Supera Difonso. Prova a puntare direttamente il canestro. Palla che resta lì. Poi approfitta lui del pallone. Può giocarlo a Diciotti. Diciotti. Prova per l'azione solidaria. Poi Sereno. Tiro forzato per Sereno. Riesce comunque a insaccare il quarto punto di Scauri. Difonso. La lascia per Scuderi. Scuderi per Beretta. Finta di Beretta. Prova a penetrare. Ma c'è il fallo di sfondo. Ai danni di Longobardi. E si prende un ottimo fallo. Intanto time out. Tutti in panca. Sabatino vuole Superi Suoi in panca. Anche perché qualcosa non sta girando tanto bene. Intanto Beretta ha il suo secondo fallo. Quindi si accomodirà a fianco a Coccia Paccarie. Almeno in questo primo quarto. In chiudere questi sei minuti e trentacinque. Ovviamente la luce non permette di vedere i tabelloni del Palaborrelli. Meno male che la nostra grafica vi propone tempo e minuti. Oltre al punteggio. Si starà facendo sentire sicuramente Sabatino. Perché giustamente i suoi non stanno rendendo come vorrebbe. Soprattutto tanti tiri forzati. Tanti tiri da lontano. E sono i palloni persi. Eccolo qua. Il tabellone del Palaborrelli. Lo vedete. In controluce. Si torna in campo. Nessun cambio per Scauri. Mentre c'è stato il cambio per la Luis. Dentro Cefarelli. Fuori Beretta. Giocherà Provenzani. La Luis è altissima. In questo caso. Giammò sulla corsa. Da parte di Provenzani. Ultimo tocco diciamo. Palla fuori. Pallone diciamo così un po' funambolico in questi casi. Intanto c'è la correzione. Sportività da parte da Luis. Bello questo gesto da parte dei giocatori romani. E palla che ripartirà per Provenzani. Lì a lato. Pallone ripartito per Ricciotti. Ricciotti porta a passeggio la sfera. Il tiro di Longobardi. 7-6. C'è la tripla di Longobardi. Il giocatore più ispirato di Scauri in questo frangente. Mentre frana a terra di Ciotti. Sotto si danno fastidio Martone e Scuderi. Anzi si trattava del numero 13. Non Scuderi ma buon accorso. Sfera intanto a Provenzani che fa ripartire di Ciotti. Ciotti porta a passeggio di Fonzo. Non c'è fretta. Anzi si tratta di Faragalli. Che lui è entrato in campo dopo la sostituzione al posto di Difonzo. Faragalli la gioca per Cefarelli. Poi Scuderi prova a scappare via da Provenzani. Va al tiro sbilengo. Provenzani può prendersi l'imbalzo. In velocità Faragalli. Più l'estero di tutti. Vince. Ovviamente anche fisicamente in questo caso contro Longobardi. Poi c'è il tiro da Luis. L'imbalzo che però è preda. Di Longobardi può ripartire dalla squadra di casa. Di Ciotti. Mezzo a una selva di maglie blu. Longobardi ancora si impuria bene. E lui il mattatore. Allora Paccarie. Chiama i suoi in panca. Anche perché c'è qualcosa che non va nella marcatura di Longobardi. Mi pare che Cefarelli non abbia preso le misure a Longobardi. E mentre Martone è impegnato a seguire Serino. Longobardi scappa via. Ragamente ha messo dentro sette punti in questi ultimi da un time out all'altro. 10-6. Come si è capovolta. Anzi 11-6. Il tabellone del Palaborrelli ci indica che ci sono 5 minuti e 23 da giocare. scorrono in secondi del time out. Scauri deve cercare di fare un ottimo risultato quest'oggi. Mentre si attendono anche gli aggiornamenti dall'altro campo. Quello di Venafro dove praticamente la squadra di Venafro sta giocando contro il Catanzaro. Al momento, al pari di minuti, perché sono a sette minuti del primo quarto, avanti Catanzaro. 9-13. Parte intanto la gara qui al Palaborrelli. Faragalli. Si propone a Cefarelli. Prova a venire avanti. Il suo tiro. Prova a fare Longobardi. Vince ancora questo duello. Si vende l'imbalzo. Con i partiti di Ciotti. Lungo la linea per una tripla di Provenza. Provenzani che infiamma il Palaborrelli. 14-6. Forse passi per Provenzani, ma l'arbitro non li ravvede. Baragalli sbaglia il tiro. Palla fuori. Rimessa che sarà da giocare per Scauri mentre è pronto il doppio cambio. Fuori 13-10. Dentro 6-12. Praticamente dentro Marcon e Beccia. Riparte la gara. Marcon e Beccia dentro. Proveno Marcon a seguire Giammo. 4-43. Pallone per Longobardi. Lo attende Cefarelli. Longobardi prova a dargli spazio. Sotto per Serino. Tutto chiuso. Allora Provenzani cerca la tripla. Ferro questa volta. Poi Serino non riesce a prendersi il pallone. Bravo Martone in questo caso. Lex Ortona. Prendersi la sfera. Faragalli. Per Sorrentino. Qua il numero 12. Anzi Marcon. Palla fuori. 4-19. Palla fuori. Rimessa per Scauri. Diciotti. Porta a passeggio Faragalli. Quella Diciotti. Scappa via. Taglia fuori per Longobardi. Quella Longobardi rientra. Si gira. Riesce a tirare il ferro. Provenzani. Le molle. Poi serve Marcon. Può ripartire allora. Il numero 12. Ospite. Sotto per il numero 6. Che deve recuperare Meti. Poi arriva Cefarelli. Raveccia. Che si era trovato più avanti. Spiazzato dal pallone. 14-8. Diciotti. Porta a passeggio Faragalli. I due. Si marcano a vista. Giammò. Dai e vai. Ancora Diciotti. Si prende il pallone. Marcon. Il blocco di Serino. Ancora Diciotti. Il blocco. Poi fuori Longobardi. Il tiro di Longobardi. Dentro. Un'altra tripla pesante di Longobardi. Scheramente il 17 lo scauri. Contro gli 8 della Lewis. Longobardi sugli scudi. In questo primo quarto. Indiavolato. Tanto Marcon. Scivola. All'indievo e Faragalli. Ancora Marcon. Sotto a cercare Martone. Si gira. Spazia per cercare il tiro. Da parte di Veccia. Ferro. Cefarelli. Poi. Ricciotti. Reggbistico per Provenzani. Che sale in cielo. E mette dentro. Si merita questo primo piano. Provenzani. Reoperato un pallone grandioso. E scappato via. Andrà a mettere dentro il 19esimo punto. Contro gli 8 della Lewis. Faragalli. Porta a passeggio. Avversari. E pallone. Poi arriva un fallo che blocca il cronometro. Fallo da parte di Serino. Che rimane quasi incredulo alla segnalazione del direttore di gara. Mentre arriva un altro cambio. De Dominicis. Dentro. Martone fuori. Mentre dall'altra parte Venafro ha già cambiato punteggio. 18 a 15 con Luce Venafro adesso. Nei confronti di Catanzaro. Si viaggia su due campi per questa salvezza. È vero che anni fa parlavamo di altri risultati. Ma giustamente bisogna adattarsi a questo tipo di stagioni. Giammò. Passaggio buono per Ricciotti. Si incunia bene Ricciotti. Passaggio adesso Giammò. Serino. Penetrazione dove praticamente la Lewis fa grande densità. Nel termine della campana la Lewis spesso del tirì. Riesce addirittura a concentrare tutti e cinque i propri giocatori. Serino allora avrà. Tiri liberamente. Primo fallo per il giocatore da Lewis. Tiro di Serino dentro. 20 scauri. 8 Luiz Roma. Secondo tiro di Serino. Secondo assegno riscorso. Parte Faragalli. Passaggio al centro per De Dominicis. De Dominicis sotto per Marco Altreva e tra i due. Ancora De Dominicis prova a puntare Longobardi. Non lo lascia passare. Cefarelli. Cerca il barco. L'arbero dice che la palla è fuori. Era crollato a terra Longobardi. Voleva forse uno sfondo. L'arbero ha preferito dare il pallone fuori. De Ciccia. La gioca per Faragalli. Poi Cefarelli si gira. Va al tiro il... Il numero 11 di De Dominicis. Cefarelli ancora si mette un buon pallone. De Dominicis alza il compasso ma commette fallo su di lui Longobardi. E allora Piero De Dominicis avrà a disposizione due liberi, visto che era il tiro. Primo tiro del numero 11 di Baccarie. Pallone fuori. Seconda possibilità. Secondo tiro due su due, ma in questo caso di errori, per De Dominicis. Mentre ultimi due giri di lancetta. Cicciotti nasconde il pallone a Faragalli. Sotto per Longobardi. Pallone a Longobardi cerca il barco, tutto solo. Ne esce un tiro. Però non c'entra il canestro. Marcon di Cancaria dall'altra parte. Va ad andare da solo. L'albero ha visto un piede. Ferma tutto la signora Nocera. Ripartireà Scauri. Cicciotti si prende il pallone. Va davanti Cicciotti. Ha bisogno di accelerare. Si perde il pallone contro Faragalli che può mettere dentro in solitaria. Sale a 10 la Luis. 21 a 10. Cicciotti. Passaggio verso Giammo. Ho caduto il livello di Scauri in questo ultimo frangente. Giammo prova a rialzare la china con questo tentativo di tripla. Di parte Faragalli. Passaggio per Beccia. De Dominicis sotto a cercare Cefarelli. Cefarelli si gira. Non riesce ad insaccare. Buono comunque la porta di dare Cefarelli. Sotto per Serino il pallone. Marcon lo segue. Serino va al tiro. riesce a mettere dentro. Sotto l'anestro. Lottando in questo caso Davide Serino. si riparte già dall'altra parte. Quando mancano almeno 38 secondi. Faragalli prova a salutare Diciotti. Si è liberato di Dominicis. Passaggio per Beccia. Fuori per Marcon. Bisogna tirare. Marcon riesce in qualche modo a salire. Ballone resta lì da parte di Serino. Fuori partita di Diciotti. C'è solo un'azione a disposizione. Arriva Serino a piccolo trotto. A recuperare posizione. Lo attende Diciotti. Bisogna tirare però. Perché mancano 10 secondi. Va Diciotti. Tentano l'accelerazione. Va lui al tiro. Ferro. Arriva Provenzani. Contro tiro di Provenzani. Finisce qui il primo quarto. 23 a 10. Lo Scauri in vantaggio. Contro la Luis. In questi primi 10 minuti. Ci apprestiamo a vivere il secondo periodo tra Scauri e Luis. Serino, Provenzani, Giammò, Longobardi e Ricciotti. In campo per Scauri. Dall'altra parte Faragalli, De Dominicis, Veccia, Cefarelli e Marcon. Con questi giocatori in campo per le due compagini. Sarà De Dominicis a giocare il pallone. Attendo l'accelerazione. Si può ripartire Faragalli, possesso di palla per lui. De Dominicis va al tiro. Buono lo schermo da Luis. Non trova il canestro. Cefarelli per la rimbalza e il suo. Poi Serino per Longobardi. Tutto chiuso. Refinisce a giocare su Giammò. Si presenta al cospetto di Faragalli. All'indietro per Ricciotti. Tutto libero. Di qua per Provenzani. Sotto ancora per Longobardi. Ragiona Scauri. Arriva il fallo per Longobardi. Fallo da parte del numero 6. Veccia. Francesco Veccia. Primo fallo per lui. Palla sotto da giocare con Ricciotti. Arriva il cambio. Dentro di nuovo Scurreri. Fuori Marcon. Ballone che sarà giocato da Ricciotti. Per Giammò. Passaggio verso Provenzani. Il tiro da lunga distanza. Per non fare Scudelli. Si vede il rimbalzo. Per far partire i suoi di gran velocità. Faragalli. Si è scaldato tanto. Manzo. In questo intervallo. Tanto Veccia. Prende un ottimo corridoio. Mette dentro due punti. Giammò per Ricciotti. Chiama la calma ai suoi. Poi il servizio per Longobardi. Problema di Girazzi. Va Longobardi. Sotto per Serino. Mezzo a un bel po' di uomini. Serino commette passi. Secondo il signor Platico. Ballone che si ferma. E va dentro. Manzo. Fuori Giammò. Mentre il pallone è lì. Per la rimessa in gioco. Da parte di Faragalli. Che può portare il pallone avanti. Passaggio sotto per Cefarelli. Scudelli. Prova a liberarsi. La penetrazione di Veccia. Va al tiro. Non trova il canestro. Serino. Rimbalzo suo. Può ripartire di Ciotti. Davanti per Manzo. Quasi un derby per lui. Giocatore che ha militato nell'Alfa Omega. Altro settore giovanile romano. Passaggio avanti per Serino. Tutto è chiuso. Allora riparte da dire per Simone Manzo. Longobardi. Non se la sente. Ci prova allora Provenzani. Il canestro non risponde. Allora Scudelli. Può ripartire a piccolo trotto. Già all'altra parte. In mezzo a tante maglie bianche. Faccia e farelli al tiro. Ferro. Serino rimbalza il suo. Manzo. Solo contro tutti. Anzi solo contro Faragalli. Va Manzo. Spara via un pallone. Provenzani lo recupera bene. Calma. Chiama Sabatino. La calma. La dà Ricciotti. Sul campo. Fermando questo pallone. Va Ricciotti. Tutto chiuso. Poi praticamente Faragalli stoppa il pallone. Quasi contendendola. Ricciotti. Ha ancorato a terra il pallone Faragalli. Nella contesa. Il pallone va a finire allo Scauri. Mentre va dentro di nuovo. Buon raccorso. A fuori veccia. L'altra parte Venafro al momento in avanti. 22 a 20 contro Catanzaro. Sciotti. Il problema di smistare il pallone lo scaglia su Faragalli. Visto che non c'erano soluzioni plausibili. Pallone per Provenzani. Il tiro di prima intenzione. Il ferro. Fai ancora Provenzani. Può prendersi il pallone. A giocare Ricciotti. Ricciotti. Disstrade via il pallone Scuderi. Un 2 contro 2. Scuderi. Prenda bene all'indietro. E' arrivato a buon raccorso. Arrimolchio. Spara il pallone. Poi Cefarelli. Si prende l'imbalzo. Si gira. Nulla da fare. Molto impreciso. In questo caso Cefarelli. Poi sotto. Succede di tutto. E arriva un fallo da parte di Longobardi. Siamo in azione per il numero 35. Allora dentro Manzo. Anzi. Marzullo. Va fuori Ricciotti. Secondo fallo personale per Longobardi. Mentre praticamente De Dominicis potrà andare lì a cercare dei liberi. 23-12. De Dominicis. C'entra il primo. 23-13. Seconda possibilità per lui. Inizia a fare 1 su 2. Può ripartire il cronometro ma si ferma immediatamente. Ballone fuori. 7-35 da giocare. Faragalli. Ballone sotto per tentativo di attacco. che prosegue con un po' raccorso. Poi De Dominicis. Mette dentro. Scauri un po' imbambolato in questo caso. E ferma 23. Mentre praticamente ne ha messi 5. 5-0 di parziali in questo inizio di quarto. per la Luiz. Tanto Longobardi si perde il pallone. Tuttura prende una pallonata in faccia. nulla di grave però per Longobardi che gioca con la mascherina di protezione. Pallone che riparte. Faragalli. Manzo arriva in blocco. Gioca in qualche modo da Luiz. Scuderi. Tiro a lunga distanza. Non trova il tabellone. Palla fuori. Messa in gioco da Manzo. Trova la velocità. Sole che adesso si trova in perpendicolare sulle finestre del palazzetto. Manzo manda a far falle un avversario. Si tratta di buon accorso. Mette dentro. I primi due punti di Scauri in questo quarto. Dopo che la compagine dei fini si era un po' fermata. Baragalli sfrutta il blocco. La federazione Cefarelli va dentro ma subisce il fallo da parte di Simone Manzo. Palla che rimane in attacco allora per la Luiz Roma. Faragalli per Scuderi sotto. Il tiro è dentro. Il pallone numero 17. 25-17. Scauri continua a pagare. Parziale di 7-2. Longobardi per Manzo. Provenzani. Provenzani ancora in processo palla di smistarla per finire ad andare al tiro. Il ferro poi sotto. Arriva rimbalzo Marzullo. Buono il suo pallone recuperato. Manzo. Longobardi cerca la tripla. La trova. Forse nel momento più difficile di Scauri. 28-17. Ripristinata la distanza dalla doppia cifra. Faragalli. Passaggio per Scuderi. Avanti del buon accorso. C'è Cefarelli in avanti. Servito. Soffia via il pallone. Serino. Voleva il fallo. Forse Cefarelli. Va fuori proprio lui al posto di Martone che rientra in campo. Quindi Paccariè ha qualcosa da dire al suo numero 11. De Dominicis. Palla che sarà da giocare da parte da lui. Se nessuno se ne la vede, si arrabbia. Paccariè. Palla è giocato proprio per De Dominicis. Da parte di buon accorso. De Dominicis prova a girarsi proprio su buon accorso. Va al tiro ma la Sirena annulla tutto. Troppo laborioso. Questa ripartenza, potremmo dire così. Da parte della squadra ospite. Manzo. Vese con Faragalli. Il blocco di Serino. Marzullo tutto chiuso. Si ferma. Prova a giocare. Avanti per Simone Manzo. Il tiro di Manzo. Dentro altri tre punti che schiaraventano al 31 Scauri. Contro il 17 della Luisa. Si trariva il fallo proprio di Simone Manzo. Fallo di Manzo. Segnato da Sirena Pratico. Mentre fuori buon accorso. Dentro Marcon. Secondo fallo per Manzo. 5-18 nel secondo periodo. La giocherà Faragalli. Ballone verso Scuderi. Si è liberato quasi per il tiro Scuderi. Prefisce giocarla sotto Martone. Era libero ma commette fallo Martone. Ai danni di Provenzani. È stato lasciato libero però dai due lunghi di Scauri. Sia Longobardi che Serino lo avevano perso in questo gioco di marcature. Provenzani a giocarla. Ci sono Marzullo, Manzo, Provenzani, Serino e Longobardi. In campo per Scauri. Faragalli, Scuderi, Marcon, Martone. E il numero 11 di Dominicis. Marcon, pallone suo. Massaggio di qua del Faragalli che prova a rientrare. Va al tiro. Ferro. Marcon recupera lui. Arrepese con Marzullo. Riesce a smaltire il pallone con Martone. Parte Scuderi. Suo cancio. Arriva Martone al rimorchio. Non riesce nell'operazione. Faragalli. Continua però lui sta ad attaccare. Scuderi cerca la titola. Questa volta si rende il pallone Provenzani. Può ripartire lui. La gestiscia Provenzani, l'ex Stella Azzurra, va al tiro. Poi Longobardi. In una pare. Scuderi che provenne dalla sconfitta sul campo della Stella Azzurra di domenica scorsa. Tanto qui può forzare a quest'azione. Arrivano i due punti di Marcon. Altro cambio. Fuori Faragalli. Dentro di nuovo di Fonzo. C'è time out. Tutti in panca. A 4 e 22 da giocare in questo quarto. Al momento Venafro è sempre avanti su Catanzaro. 28 a 26. Scuderi si sta giocando le sue opportunità. 31 a 17 contro questa Luiz Roma. 31 a 17 ma basti pensare che praticamente in questo quarto abbiamo iniziato sul 23 a 10. Mi ha messi dentro 7 la squadra ospite. mentre Scuderi mi ha messi dentro 8 un mini break che premia comunque Scuderi ma Scuderi che si è ripreso nell'ultimo periodo. Termina il time out. Si torna in campo. Lì c'è pronto Marcon per prendersi il tiro aggiuntivo e salire a 4 a 20 con la sua Luiz. Marcon il tiro. Palla sul ferro. Sale in cielo Marzullo a prendersi questo rimbalzo. Può ripartire Manzo. Va il numero 14. Serve Longobardi. La presa con lo stesso Marcon. Tutto chiuso. Se ne trovano un compagno c'è il fallo di Longobardi che alza il gomito. Mette il suo terzo fallo in questo caso. Contro Marcon. Arriva il cambio. Fuori Longobardi. Dentro Casoni. 4-0-2 da giocare. 4-0-5. Dentro Cefarelli. Da Luiz. Fuori il numero 13. Buon accorso. Sarà Cefarelli a giocarla. Cefarelli subito mandato in campo. Dovete approfittare anche dall'assenza di Longobardi. Non perché Cassoni sia la meno. Ma giustamente sono due giocatori nettamente diversi. Intanto Scurarelli fa un costo-to-costo. Non riesce a metterla dentro. Riparte Marzullo. Però Benzani. Dall'altra parte lo segue Difonzo. Chiuso. Non riesce a servire. Per Cassoni. C'è stato forse un tocco da parte di Difonzo. Ma in mezzo alla stessa idea. Allora riparte. La squadra da Luiz. Marcon. Esatto. Per Cefarelli. Cefarelli. Tutto fermo. Guardi. Ha visto il fallo di Cassoni. Eh sì. Fallo di Cassoni. Oltre ad entrare Giamò. Quando siamo a 3.33 da giocare. Fuori Provenzani. Dentro Giamò. Scauri che tira in panchina. Solezzi e Varga. Varga che sta giocando in questo periodo nella doppia veste. Doppio testamento per il giovanile possibile. A Serapo. Con lui buoni minuti in Cascina. Mentre riparte Scauri. Marzullo per Manzo. 31-21. 10 punti di distacco dalle due formazioni. Difonzo. Prova a chiudere ogni varco a Manzo. Va Marzullo. Prova ad ubriacare Cefarelli. Fuori a cercare Giamò. Giamò sotto ancora per Marzullo. Va al tiro. Toglia un po' di polvere la retina. Marzullo. Mentre riparte già Difonzo. Lo attende Manzo. Difonzo con il pallone in Cefarelli. Mezza due uomini. Ne esce un tiraccio. Marzullo per Manzo. Non trova neanche lui il via del canestro. Sede errori. La Difonzo prova a mettere ordine. Marcon finta di passaggio. Tutto chiuso. C'è ripensato alla fine. Scuderi. Arriva il blocco di Martone. Va Scuderi. Blocca fuori per Cefarelli. Marcon prova la penetrazione. Fuori ancora per Cefarelli. Tiro. Ferro. Poi c'è un fallo sotto canestro. Giamò. Commette fallo Giamò. Il signor praticò. Di Reggio Calabria. 33-21. Scauri al bonus. Martone può cercare di uscire il gap. Primo tiro dentro per l'ex Hortuna Basket. Per lui presenza neanche in Serie A. Pronto il cambio. per la Veccia. Due su due per Martone. Baccarie. Mando dentro Veccia. Va fuori Scuderi. 2-29. Casoni per Manzo. va Manzo. Le prese con Difonzo. Serino. Liberarsi di Martone. Va Manzo. Ma non è per lui. Va. Penetrare Manzo. Si ferma. Forse si è fatto male. Ma arriva il canestro. Problemi per Manzo. arriva la tripla di Marzullo. Manzo. Sembra piegato in due. Esce Claudicante. Speriamo non sia nulla di grave. Problemi forse ha una caviglia. Sembra. Di parte di Fonzo. Marcon. Le prese con Ricciotti. Va a sfruttare in blocco Marcon. Blocca tutto il direttore di gara. Visto il fallo di Marzullo. L'anno ancora liberi. Marcon. Due libri a disposizione. Quando il clomero dice che ci manca 1.56 per chiudere questo quarto. Marcon sbaglia il suo primo tiro. Seconda possibilità. Lì dalla linea dei libri. Uno su due. Per Leonardo Marcon. Tutti in panca. Time out. Un po' stanco Serino. Sta pagando. La stagione disputata qui a Scauri. Ha fatto comunque un'ottima stagione. Serino. Il rival Tirreno. Un ottimo ritorno il suo. Ma in questi casi paga un po' essersi caricato sulle spalle della squadra per tante partite. Oggi non riesce a incidere come vorrebbe. È vero che magari il tipo di gioco non lo aiuta da parte degli avversari. Lui che ha delle peculiarità di essere un giocatore che sotto canestro si fa vedere. Tanto vediamo la fasciatura per Manzo. Problemi alla caviglia per lui. Mentre dall'altra parte Catanzaro è ripassato in vantaggio. 34-35 su Benafro. Vantaggio diciamo così misero. Ma un vantaggio che chiude il secondo quarto con Catanzaro in avanti. Ricordiamo se Scauri vince e Catanzaro perde. Scauri questa sera festeggia la salvezza matematica. Ma bisogna chiudere le gare con questa combinazione. Altrimenti è tutto rimandato per i Delfini. Ricciotti va a sfruttare il blocco. Poi scarica verso Serino. Le prese con Martone. Va a incuniarsi. Tutto chiuso. Riesce comunque a trovare il barco per il tiro. Rossi riparte dall'altra parte della Luz. Con Veccia. Va Veccia. Gli soffia via il pallone di Ricciotti. Bellissima la giocata. Va Ricciotti. La gioca bene nel breve. Quattro giocatori della Luz. Vicino al pallone. Pura Ricciotti. Passeggio Marcon. Il tiro di Giammò. Ferro. Che solda. Marcon si prende l'imbalzo. Supera Serino. Marcon l'appoggia su Cefarelli. Qualche modo chiude Casoni. Ma Cefarelli mette dentro. 36-26. Siamo quasi al minuto. Vicciotti. Passaggio verso Marzullo. Giammò. Repese con Veccia. Arriva il blocco. Ma Giammò prova ad ubriacare Martone. Lo manda fuori giri. Vicciotti. C'è libero Marzullo. Può cercare la tripla. Ferro solamente per lui. Martone. Gli sministra il pallone. Allora in avanti per Veccia. Lo scopo è un po' spaisato in questo rangente. Sono saltate le marcature. Cefarelli. Poi Marcon può cercare la tripla. Ferro. Serino. Ancora Marcon. Aiutato da Martone. Si gira Martone. Qui sbaglia. Un pallone che poteva essere bellissimo. Bastava solo girare. Qui non lo sbaglia invece Serino. Questi sono i suoi palloni. Questi sono le giocate di Serino. Stanno mancando. A questo Scauri. Lo ha innescato adesso Ricciotti. Mentre praticamente siamo agli ultimi giri della lancetta. L'ultimo giro della lancetta in questo secondo quarto. Sarà riposo lungo. Difonzo. Va al tiro Martone. Pallone dentro. La sirena ci dice che Scauri e Luis Roma vanno a riposo sul punteggio di 38 a 28. Praticamente ne ha messi dentro 15 Scauri. Ne ha messi dentro ben 18 la Luis vincendo questo mini parziale. Linea che va al terzo quarto. Tutto pronto a Scauri per iniziare il terzo quarto tra Basca e Scauri e Luis Roma. Ma il punteggio al momento lo vedete su qualsiasi schermi. 38 a 28. Tra le due formazioni Scauri con Ricciotti, Marzullo, Serino, Giammò e Casoni. Dall'altra parte Difonzo, Faragalli, Scuderi, Cefarelli e Beretta. Il dottore di gara è già pronto per portare il pallone sul parche di gara. Sarà Difonzo a giocare il pallone Scuderi che giocherà dalla sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Classico completo bianco. Gara che inizia in questo momento nella seconda parte determinante. Il pallone è gestito da Cefarelli per Scuderi. Lo segue Giammò e finisce giocare con Beretta che ha passato tantissimo tempo in panca. Non si vede dal primo quarto. Già gravato di due falli. Intanto Scuderi mette una bella parabola che vale il 38-31. Già d'altra parte Casoni. Posto di Longobardi. Anche lui fermo a 43 falli. Serino gioca per Giammò. La penetrazione dai e vai, vorremmo dire così, per il numero 8. Va al tiro Serino. Ma c'è il fallo probabilmente di Faragalli. Sì, è così. Fallo da parte di Faragalli. Il capitano di questa Luiz Roma. Serino avrà disposizioni liberi per prendersi punti errate. Nulla da fare. Seconda possibilità per Serino. Due tiri. Un punto. 39-31. Riparte Di Fonzo. La penetrazione di Di Fonzo. L'uno da fare. Passaggio fuori per Faragalli. Cefarelli. Cefarelli, scusate. Di Fonzo. La penetrazione. Torno nei secondi. Bisogna tirare. Forse passi. Riparte Diciotti. Passaggio in avanti. Casolino. Riesce a insaccare. Si rende il pallone. Serino. Il tiro di Giammò. Da lunga distanza. Vale la tutta. 42 scauri. 31 per gli ospiti. Scuderi. Per Beretta. Ora Scuderi. Prova a seminare Marzullo. Si incunia bene. Va al tiro. Poi Beretta. Bella la correzione volante. Cresciuto tantissimo Beretta. In questa Luis. Giammò. Oltre il pallone al passeggio. Poi lo scambia verso Serino. Il tiro di Serino. A lunga distanza. Il ferro. Beretta anticipa. Dall'altra parte. Difonzo per Scuderi. Il tiro di Cefarelli. Dentro altri due punti. Per la Luis. Pallone gestito da Ricciotti. Ricciotti. Asconde il pallone. Poi Marzullo. Giammò. Cerca di nuovo il tiro. Trova di nuovo la tripla. 45 scauri. 35 Luis. Con Ricciotti. Che ha piazzato la bomba. Con Giammò. Scusate. Che ha piazzato la bomba. Di nuovo dal lungo dell'arco. Esterno. Cefarelli. La sua penetrazione non va a fare. Serino si prende un ottimo rimbalzo. Può ripartire Ricciotti. In avanti verso Mazzurro. Faragalli. Leggia bene. Si impossesse del pallone. Può puntare. 3 contro 2. Il tiro di Difonzo. La tripla questa volta. Arriva per la Luis. Sale a 38. La squadra romana. Ricciotti. Ripese con Faragalli. Va a Ricciotti. Tiro di Serino. La bomba si ferma sul ferro. Può ripartire. La squadra con Beretta. 45-38. Quando mancano 9-24. Anzi. Quando mancano 7 minuti. In questo quarto. Può ripartire. Lo scauri. Con Ricciotti. Va. Già mo. Tutto chiuso. Tiro di Marzullo. Sulla sirena. È buono. Dice il direttore di gara. 47 scauri. 40 per la Luis. Pallone per Cefarelli. Pallone per Cefarelli. Forse passi. Scuderi. Passaggio per il Faragalli. Poi Difonzo. Va al tiro. Bomba. Che si ferma sul ferro. Casoni. Si prende un ottimo rimbalzo. Può ripartire. di Ricciotti. Va. Ricciotti. Con tutto il cambio. Tra De Dominicis. E la Luis. Sotto Pezzerino. Mezzo a due uomini. Subisce fallo. 6-0-3. 47 a 40. Per Scauri. In vantaggio. Solo di 7 punti. Al momento. 7 punti. Il quarto si è aperto. Sul 38 e 28. Praticamente era di 10. Il gap si è ridotto adesso. Serino. Per Ricciotti. Passaggio verso Giammo. Il tiro di Giammo. Non va a fare. Non riesce a impattare. a punti. L'arbitro blocca tutto. Ha visto il fallo. Da parte di Serino. Mentre Venafro. Al momento. Avanti. 43 a 39. Contro Catanzaro. Difonso. Lui a giocare il pallone. Cerca un compagno. Alla fine. L'arbitro lo punisce. Per questa perdita di tempo. Ripartire da Scavori con Giammo. La gioca su Ricciotti. Va il capitano. Alle vese con Faragalli. Passaggio in avanti per Serino. Poi il passaggio si conclude. Da dove era partito con Ricciotti. Serino prova la federazione con Beretta che chiude ogni varco. Arriva il tiro di Serino che calvanizza anche la tribuna. 49 a 40. Di Fonso. Preditazione per lui. Spara il tiro. Trova. Poi c'è il fallo sotto. Da parte di Scauri. Due liberi di Fonso. Per poter cercare di prendersi questo canesso a rate. Dentro Veccia. Fallo di Marzullo. Fuori Faragalli. Terzo fallo anche per Marzullo. Di Fonso. Primo lì per la disposizione. Palla sul Ferro. Non va a fare. Impatta lì. Si ferma e torna giù il pallone. Senza passare dalla retina. Seconda possibilità per Di Fonso. Però Ferro questa volta trova le comode braccia di Serino. Sciotti. Passaggio verso Marzullo. La penetrazione di Marzullo. Poi Beretta si prende il pallone. Per far ripartire Di Fonso. 5 minuti da giocare. Scuderi. Ora De Dominicis. Valti da lunga distanza. Ferro poi rimbalzo. Che premia Giammo. Può ripartire Scauri. Ricciotti davanti per Serino. Si è chiuso tutto. L'albero vede passi per Serino. Gran time out. Entra anche Provenzani però alla fine del time out. Tutti in panca allora. 4 minuti e 45 da giocare. 49 a 40. A momento il punteggio. Dopo il primo break che si era chiuso 23 a 10. Il secondo 15 a 18. Ford alla Luiz. Adesso 49 a 40. Ci dice che ne ha messi 12 la squadra ospite. Ne ha messi solo 11. Scuderi. Si torna in campo. Si torna in campo. Ballone è già ripartito per la Luiz. Difonzo gioca col cronometro. De Dominicis. Dai vai proprio con Difonzo. Ballone gestito. Va Scuderi. Prova a penetrare. Beretta. Poi già. Lui va a fare per due. Cassoni. Si prende un ottimo rimbalzo. Può ripartire a 18. C'è sotto Serino. Servito. La presa con Beretta. Che lo attenta. L'attende. Poi Giammo. L'uva a fare questa volta. Il tiro è lento. Non dei migliori. Il tiro di Giammo. Scuderi. Circo. Navica il canestro. Difonzo. Tiro. Di Veccia. E questa è una bomba da tre. Che premia la Luiz. 49-40. E la Luiz galvanizzata. Quella tornata in campo dagli spogliatoi. Passaggio per Giammo. La presa con Scuderi. Arriva Casoni. Giammo non si libera però. Serino. Passaggio sotto per Casoni. Pocca Giorgiore dentro. 51esimo punto. Deri Delfini. 51-43. Difonzo. Dai vai con De Dominici. Passaggio per Scuderi. Beretta. Le pesi con Serino. Poi il passaggio fuori. Il tiro di Veccia. Su. Una bomba da tre in precedenza. Poi Ricciotti. Approfitta di questo rimbalzo. Provenzani può volare. Mette dentro. 53 scauri. Il passaggio per Giammo. Il passaggio per Giammo. Il passaggio per Giammo. E qui c'è il pallo da parte di Difonzo. A Stanzanetto. Lo sfondo. Su Provenzani. Pallone fermo. Pallone fermo. Ricciotti. Porta a passeggio Faragalli. Ricciotti. Stacca verso Giammo. Che prova per entrare. C'è Cifarelli su di lui. Passaggio per Faragalli. Si parte in contropiede. Scuderi. Si ferma lì. Provenzani. Zanica via il pallone. Ricciotti. Mezzo a tante maglie. Blu. Riesce in qualche modo a districare la matassa. Provenzani. Cerca la bomba. Prova. Titola. 56-43 Provenzani. Ottimo. Il suo tiro. E' in avanti per Beretta. Si perde il pallone ma trova il fallo. Da parte di Serino. Passaggio per Cefarelli. Faragalli. Pallone perso. Allora ripartire Scauri. Buonriciotti. Passaggio per Serino. Provenzani. La squadra scalese. Giammo. Ancora per il tiro di Ricciotti. Ferro poi Beretta. Si prende un altro rimbalzone. 56-43. Minuto e 57. A chiudere questo quarto. Cefarelli prova a girarsi. Prova a fare. Tutto chiuso. Ancora Cefarelli. Il pallone che resta lì fuori per il tiro di Scudeni dalla lunga distanza. Provenzani. Serino. Si prende il rimbalzo. In qualche modo il pallone controllato dal Giammo ma era fuori. Sarebbe stato un ottimo pallone. Un'ottima ripartenza per Scauri. Quando mancano un minuto e 42 da giocare. Baccarie dà indicazioni ai suoi. Misterio tecnico di Malta. Baccarie. Baccarie. Tanti traguardi di vestigio per questo coach. che ha avuto il fregge anche di guidare la nazionale militare italiana. Faragalli. 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 Passaggio. Infine per Veccia. Si fa vedere. In avanti. Viene servito. E qui c'è il fallaccio. Da parte di Provenzani. Boccato fallosamente. Eugenio Beretta. Che era scappato via. Però nulla del vero. 1.25 da giocare. Molto mobile. Un pivot sui Genervis. Beretta. Gioca tantissimo a contatto con la squadra. Primo tiro di Beretta. E si inzacca. Seconda possibilità per lui. 2 su 2. 56.45. Già partito il cronometro. Scorio. Il momento su più 11. Provenzani per Serino. Arriva Giammò Rimorchio. Ancora Giammò. Tutto chiuso. Prefisce giocare la col suo numero 8. Dai e vai ancora. Ancora Giammò. Prova di ubriacare Scuderi. In parte Scuderi. Passaggio davanti per Cefarelli. C'è forse lo sfondo. Anzi no. Fallo più canestro. In questo caso. Fallo più canestro. 48. Anzi 47 per la squadra ospite. Con Cefarelli che avrà il tiro libero a disposizione. va al giro a Cefarelli. Palla sul ferro. Sotto Casoni. Si prende il rimbalzo. Può ripartire Scauri. Con Ricciotti. Piccolo trotto. L'appoggia. Poi Giammò. Provenzani. Passaggio a Serino. Serino e Cefarelli. Greco-Romana. Non so se li avete visti l'inquadrati. Bisogna tirare. Allora va Giammò. Ferro. Beretta. Si rende un ottimo rimbalzo. Faragalli. 30 secondi da giocare. Partono i blocchi. Con Beretta. Che chiude il marco a Ricciotti. Beragalli. Prova a approfittarne. Cefarelli. Cefarelli. Scusate. Beretta. Solo là sotto. Sbaglia il tiro. Palla fuori. 10 secondi. Ha lasciato scappare via il pallone Casoni. Ha fatto bene. Profitta di questa rimessa dal fondo. Già battuta Provenzani. Per Ricciotti. Va a Ricciotti. Lascia per Serino. Fuori a cercare Giammò. Cerca la tripla Giammò. Dentro. Stacco importante per Joshua Giammò. Per chiudere questo quarto. 59 Scauri. 47 per la Luis. Ci apprestiamo a vivere l'ultimo periodo per chiudere questa contesa. Ultimi dieci minuti. Scauri propone Casoni, Giammò, Serino, Provenzani e Ricciotti. Faragalli, Veccia, Cefarelli, Scuderi e Beretta. Campo per la squadra ospite. Si attende l'ok per iniziare questi ultimi dieci minuti. Iniziano in questo istante. Tanto da Venafro ci arriva il risultato del terzo parziale. 59-58. Venafro in avanti. Stando così le cose non si concluderebbe nulla stasera. In chiave salvezza. Tanto Casoni mette dentro due punti. 61-47. Di parte Faragalli. Passaggio per Scuderi. Veccia per Beretta. Ancora Veccia. Cerca la triple al ferro. Poi Licciotti si impostasse del pallone. Può fare i partiti suoi di gran carriera. Licciotti. Ferma il tutto. Era partito velocissimo. Poi si è fermato. Giammo. La presa con Scuderi. Prova a nascondere il pallone. Arriva Serino al blocco. Passaggio proprio verso Serino. Il pallone si perde. Il fallo di fondo. È rimessa che dovrebbe essere a favore della squadra di casa. Sarà lo Scauri a giocarsi il pallone. Licciotti. Mette il pallone subito sul tiro per Provenzani. Bomba. 63 Scauri. 42-47. Scusate. Per gli ospiti. Cefarelli. La presa con Casoni. Va al tiro. C'è il fallo da parte di Casoni. Tutto fermo. Dovrebbe cominciare a scaldarsi anche Longobardi. Probabilmente. con il suo ritorno in campo in questo finale di gara. Fermo praticamente dal secondo quarto. Longobardi. Metteva fuori Veccia. Da dentro. Buon accorso anche lui. Da un bel po' che non si vedeva in campo. Cefarelli. Cefarelli. Primo tiro. Da annullare. Superato la linea. Il giocatore ospite. Terzo periodo. Il parziale. 21-19. Vescauri. Cefarelli. Pallone dentro. Punteggio aggiornato. Allora. 63-48. La Provenzani. Porta a passeggio la sfera. Giammo. Si perde il pallone. Poi lo recupera. Contro Scuderi. Si era liberato Casoni. Province a giocarla su Serino. Ricciotti. Si prende il tiro. Due punti. Le scauri. 65-48. Faragalli. Pronto per entrare Di Fonzo. Faragalli. Contro Giammo. L'accelerazione di Faragalli. Poi il passaggio fuori verso Scuderi. Il tiro di Scuderi. Dentro per lui. Tre punti. 65-51. 16. Anzi 14 punti di distacco. Va a portare il pallone di Ciotti. L'appoggio è per Giammo. Penetrazione. Scarica fuori. Ha letto bene Faragalli. Anticipa Casoni. Quasi lui ride Faragalli. Poi arriva Giammo. Blocca tutto. Palla fuori. Rimessa per la Lewis. Che rimane in attacco. Dentro Di Fonzo. Fuori Cefarelli. Mentre rimane fuori Martone. Faragalli la gioca. Per buon accorso Scuderi. Commette fallo però su di lui. Provenzani. Paletta numero 4 per Provenzani. Si avvicinano in zona pericolo i giocatori. Allora pronto ad entrare Zolezzi. Fuori Provenzani. Dentro Zolezzi. Un po' dettata. Obbligata. La scelta del cambio. Si parte con Di Fonzo. Il passaggio è poi in beretta. Dai e vai. Di Fonzo. Spara via il pallone. Può ripartire. Allora. Lo scauri. Liciotti. Va Liciotti. Per una verso Giammo. Zolezzi. Di una sfera toccata. Arriva il blocco di Casoni. La gioca sul numero 23 Zolezzi. Va al tiro a Casoni. Dentro 67 Zolezzi. 51 Zolezzi. Mentre al momento Garanzaro è avanti. 60-64 contro Venafro. Beretta. Il tiro. Nulla a fare. Il rimbalzo è prena di Diciotti. Può ripartire. Il numero 5 è pronto ad entrare anche Martone. Diciotti. Si trova sulla sua strada. Beretta. L'arbitro blocca tutto. Passi per Ricciotti. 6-55. Vada. Direttrici di gara. Signora Nocera. A spiegare la scelta a Ricciotti. Mentre Provenzani. Quasi ultrassi in campo. Galvanizzano dei suoi compagni. Baragalli scivola Scuderi. Parte buon accorso. In penetrazione. Casoni. Inchiudo ogni barco. Martone. Il tiro alla lunga distanza. Non riesce alla correzione volante. Casoni. Si vende il pallone. Può ripartire. Ricciotti. Va il capitano. Si ferma. Serino. Ancora Ricciotti. Dai e vai. Tra i due. Si proponeva Casoni. Servito. Si vende la lunga distanza. Casoni. Ferro. Può ripartire Scuderi. Vai il numero 10. Nulla da fare. Faragalli. Tutto chiuso però. Non tira Luis. Difonzo. L'accelerazione su Giammo. Cercare Bonaccorso. Il tiro di Bonaccorso. È una bella bomba da 3. 54 per gli ospiti. 67 per le scauri. Di parte di Ciotti. Ricciotti tutto chiuso. E qui legge bene Difonzo. Pallone che si ferma sul ferro. E poi va dentro. La giocata da Ricciotti. 67.56. Serino va al tiro. Ferro. Scauri fermo. Questo frangente. Non riesce a trovare punti. 67.56. 5.22 da giocare. Faragalli. Per Difonzo. Scuderi. Sotto per Martone. Giro. Palla completo adesso. E da Luis. Bonaccorso. Tutto chiuso. Deve trovare sui passi. Fuori per Difonzo. Circa lui il tiro. Bomba. Solo Ferro. Può ripartire. Casoni da Vascia. Per Ricciotti. Va Ricciotti. Si incunia bene. Mette dentro. E pescante. Un bel fallo. Per Dante Ricciotti. Catanzaro ancora avanti. 65.69. Sul campo di Venafro. Torna in campo Longopardi. Va fuori. Uno stanchissimo Serino. Vedete adesso inquadrato Serino. Non al 100% oggi. Vedete lì. Seduto. Ballone sarà per Ricciotti. Primo. Primo. Unico tiro per Ricciotti. A rotonda 70. Può ripartire il cronometro. A 4.58 da giocare. Faragalli avanti per Difonzo. Martone. Arriva il tiro ma bloccato tutto per un fallo. Paletta numero 4 da Marti Longobardi. Credo che Serino non potrà riposarsi così tanto. Se Longobardi è appena entrato va al quarto fallo. Martone. Primo libero dentro. Seconda possibilità per lui. 70.57. Scorica è a 4.50 da vincere questa partita. Nel mezzo c'è la Luiz Roma di Coccia Paccarie. Per nulla doma. Giammo. Passaggio per Giammo. Il buono tentativo verso Longobardi. Tutto fermo però. si lavora con Ricciotti. Avanti ancora per Giammo. È pronto il cambio. Entrerà Marzullo. Ricciotti prova a penetrare ma si perde la sfera. Palla sul fondo. Voleva forse un fallo. Tutti in panca. Time out. Saranno 5 minuti. veramente 4 minuti e 28 di gioco. Ma saranno almeno altri 10-15 da giocare. Veramente all'alto livello. Anche perché le due squadre sono lì. Sono attaccate. 12 punti di distacco. Non sono tantissimi. La Luiz ha dimostrato di poter recuperare velocemente. In qualunque momento potreste giocare le proprie carte la Luiz. Ovviamente Scauri a Longobardi. Adesso a 4 falli. A Provenzani a 4 falli. Infatti va fuori Casoni. Va dentro Marzullo. Questa è la scelta del coach scaurese. Sabatino. Mentre riparte Difonso. Faragalli a giocare la play. Faragalli l'appoggia su Martone. Dai e vai. 3-2. Accelerazione di Faragalli. Costringe al fallo Ricciotti. Due libri a disposizione di Faragalli. Per Ricciotti si alza la paletta numero 1. Fa strano vedere la numero 1 Ricciotti. Il numero 4 a Provenzani. E a Longobardi. Giocato pulito fin qui il capitano. Faragalli. 4-18 a giocare. Primo tiro per lui. Non si fa intimidire dai fischi. Sala 59. Vicino a chiudere il gap della doppia cifra. La Luiz. Secondo tiro. Secondo canistro per Faragalli. Marzullo. La mette per Giammo. Ricciotti. Subito in avanti per Zolezzi. Passaggio di ritorno. Lo scauri che prova a scaricare il cronopero in tutti i sensi. E qui è bravo Scuderi però. A leggere il passaggio. Viene in avanti per Faragalli. Difonso. Si prende una bella responsabilità. Si prende però 3 punti importanti. 70-63. Lo scauri è fermo. L'altra parte è che Lanzaro sta vincendo. 69-71. Quando mancano praticamente 34 minuti. Diciotti per Giammo. Cerca lui la tripla. Niente da fare. Faragalli può prendersi un altro pallone. E' uno scauri che però è fermo. L'abbiamo già detto. Non ci piace ripeterci. Ma sta uscendo poco o nulla dalle braccia scauresi. Marcon va al tiro. Ferro. Il balzo sotto di Longobardi. Riesce poi Marzullo a intromettersi Giammo. Forse il piede di Faragalli. Solo Lezzi. Ruba un ottimo pallone. Diciotti. Un po' di regolarità. Non vista il diretto di gara. Ma lasciamo andare. 3-11. Il tiro a lunga distanza. Riena i tre punti per Scauri. Che smuove un po' la retina. Sta di fatto. La squadra scaurese è ferma. Mancano 2.50 da giocare. 73-63. Longobardi sul ferro. Pallone fermato. 2-33 a giocare. Pronti Serino e Provenzani per sfruttare gli ultimi scampoli di questa gara. L'ultime batterie per Serino. Mentre l'ultimo fallo per Provenzani. Fuori Solezzi. Dentro Serino. Fuori. Giammò. Lo vedete. Adesso che arriva per il cambio con Provenzani. Parte il cronometro. Provenzani fa girare palla per Ricciotti. Va in pennazione di Ricciotti. Prefisci deve andare all'indietro per Marzullo. Finita di tiro. Provenzani. In avanti per Serino. Il pallone torna a Provenzani. Il tiro di Provenzani. Il ferro. Proprio sul suono che poteva fermare l'azione di Scauri. Martone. Per Faragalli. 73-63. Faragalli. Gap di 10. Marcon si cira bene. Appoggia dentro. 73-65. A 2-07. Marzullo. Verserino. Passaggio verso Ricciotti. Dormenta un po' il pallone Ricciotti. Contro Difonzo. Prova la penetrazione. Si è chiuso da Luis. Provenzani cerca il tiro a lunga distanza. Bomba da tre. Di parte la scuola da Luis Marcon va a chiudersi. Già dall'altra parte di Ciotti a 1.45. Ciotti scarica un po' il cronometro. Ha bisogno di giocare anche con il tempo Scauri. Longobardi. Palla fuori. Buono la disciplina parte di Scuderi. 1.37 da giocare. Sta Provenzani a giocare il pallone. Passaggio verso Di Ciotti. Che ferma la sfera. Vuole sfruttare tutto il tempo a disposizione Di Ciotti. Poi va al tiro. Ferro. Uno a fare. Martone. Pulisce questa sfera e Paragalli la perde. Nel tentativo di ripartenza. 73.75. Ancora avanti Catanzaro. Scauri. 76.65. Pronta ad entrare di Sorrentino. E Sordio in gara per lui. Fuori Paragalli. Ciotti e Serino. Il pallone per i Ciotti. Raffredda la sfera da Dante Di Ciotti. Lo attende Sorrentino. Vai. Il premier che è di Scauri. Quasi a voler consumare tutti i secondi. Sul piccolo tabellone. Zullo. Lo stoppone da parte di Marcon. Di Ciotti. Longobardi. Cerca la tripla. Ed è una pietra pesantissima da parte di Longobardi. Marcon. Già dall'altra parte. La pese con Marzullo. Prova a girarsi. Diciotti. Li ruba il pallone. Di Fonzo. Si prende la sfera. Passaggio. In avanti per Martone. Manda a vuoto Marzullo. C'è il fallo più canestro. 79 Scauri. 67. 67 per la Luiz. 47 secondi da giocare. Martone. Culla il pallone. Suo tiro dentro. Sale 68 da Luiz. Contro 79 di Scauri. Il cronomeno che è già ripartito. Ricciotti. Va Ricciotti. Porta a passeggio la sfera. E qua si caccia all'uomo. Longobardi. Attende Sorrentino. Ancora Longobardi. Passaggio verso Ricciotti. Va Ricciotti. Ancora a passeggio. Tutto chiuso. Il tiro di Ricciotti. Nulla da fare. Dall'altra parte. Marcon. Vai a incuniarsi. Quinto fallo per l'Omone. Esce. Tra gli applausi. Paletta numero 5 per lui. Quando mancano 14 secondi. A chiudere questo periodo. Anzi, a chiudere l'intera gala. 75 pari tra Venafro e Catanzaro. al 39esimo minuto. Marcon. Il suo pallone si insacca. Seconda possibilità per Marcon. 2 su 2. 79. 70. 14 secondi. Partire adesso. Ma sono solo applausi. Quelli che accompagnano Dante Diciotti. A chiudere questa gara. Peranzaro 75. 77 su Venafro. Si salutano i giocatori. Termina qui la gara. Un ottimo scauri. Batte la Luiz Roma. Con il carattere. Adesso.